da quella che è stata un'affermazione che personalmente trovo assai incisiva del ministro tedesco Spanna, che ha parlato di pandemia dei non vaccinati, perché è evidente che ci troviamo di fronte a uno scenario epidemiologico composito dove il rischio di essere infettati e conseguentemente di sviluppare patologia grave, magari tale da richiedere il ricovero nelle rianimazioni con gli ovvi impatti poi su quelle che sono le attività ordinarie e ancora di più poi il rischio di sviluppare patologia fatale è significativamente diverso tra chi è vaccinato e chi non è vaccinato. Più specificatamente vorrei ricordare che l'analisi dell'Istituto Superiore di Sanità ha documentato chiaramente che nel Paese fino ai 59 anni di età nessuno dei vaccinati è stato ricoverato nelle terapie intensive. Nella fascia 60-79 vi è un rischio di 21 volte superiore e oltre agli 80 anni di otto volte superiore di finire nelle terapie intensive per i non vaccinati. Quindi è chiaro che anche nel nostro Paese, pur sottolineando opportunamente il Ministro, quanto la situazione italiana sia marcatamente più favorevole rispetto a praticamente quella di tutti i Paesi europei. Nella nostra favorevole situazione ci sono, diciamo, Spagna e Portogallo, ma tutto il resto delle nazioni europee hanno numeri decisamente più importanti. E' evidente che vi è un lavoro da continuare e da ulteriormente sviluppare. Anche perché, e anche qui provo a dirlo io, se ci paragoniamo alla Germania, che è un Paese con cui spesso è opportuno confrontarci per l'elevato livello socio-economico sanitario. Noi abbiamo quasi il 9% in più di soggetti vaccinati sull'intera popolazione. Questo va rimarcato in maniera molto chiara come un evidente successo di tutto quello che è stato sia la proposizione alla gestione organizzativa sia anche l'adesione da parte della popolazione italiana.